A seguito dell'operazione antimafia Anno Zero Blitz del 2018, il 15 febbraio 2022 il Tribunale di Marsala aveva condannato a complessivi 166 anni di carcere i 13 deputati del processo con rito ordinario. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo ha chiesto ora la conferma della sentenza. Nell'indagine sono convolti i fiancheggiatori di Cosa Nostra di Castelvetrano, Mazzara del Vallo e Belice e due cognati del boss Matteo Messina Denaro, Gaspare Come e Rosario Allegra, quest'ultimo deceduto a giugno 2019. Il cognato Gaspare Come è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme a Dario Messina, ritenuto dagli inquirenti il nuovo reggente del mandamento mafioso di Mazzara del Vallo e di Marsala. Il Tribunale di Marsala ha inflitto inoltre le seguenti pene a Vittorio Signorello di Castelvetrano, 21 anni, a Bruno Giacalone di Mazzara del Vallo, 18 anni, 17 anni ciascuno per Vito Bono di Campobello di Mazzara, per il mazzarese Bruno Giacalone e per il genero del boss Vito Gondola, detto Coffa, a Carlo Cattaneo di Castelvetrano, 16 anni, accusato di concorso esterno di associazione mafiosa nel settore delle sale giochi e scommessi online. 7 anni per Giuseppe Accardo di Campobello, mentre all'ex consigliere di Castelvetrano, Calogero Lillo Giambalvo, 4 anni e 4 mila euro di multa e 4 anni ciascuno per Carlo Lanzetta, Nicola Scaminaci, Giuseppe Tommaso Crispino e Maria Letizia Asaro. I comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazzara si trovano tra le parti civili, accordando risarcimento danni pari a 10 mila euro ciascuno. All'ex consigliere comunale PD di Castelvetrano sono stati chiesti invece 5 mila euro di risarcimento. Deliberate anche altre pene accessorie e confische di beni, quote societarie e conti correnti.